ciao a tutti e benvenuti oggi facciamo un piccolo video in cui cercheremo di rispondere in modo più esplicito possibile alla domanda che ci è stata fatta sotto il video tutorial in cui abbiamo fatto vedere come realizzare un top ai ferri senza le cuciture sto parlando di questo top che se non avete ancora visto il tutorial leggo qui sopra il link che potete consultare è davvero facilissimo è molto molto bello mi leggo la domanda praticamente ci è stato chiesto al momento non possiedo i feri a doppia punta ma solo quelli circolari mi chiedevo posso avviare il progetto che è molto bello complimenti innanzitutto volevo ringraziare tantissimo ci fa molto piacere quando un progetto che realizziamo vi piace cerchiamo sempre di realizzare dei progetti particolari molto belli ma allo stesso momento anche facili da realizzare per dare la possibilità anche chi sta facendo i primi passi in questo bellissimo meraviglioso mondo di maglia di comunque riuscire realizzare dei bei progetti la risposta si si può tranquillamente avviare e lavorare anche ai feri circolari se non possiedete quelli a doppia punta ma per non limitarci a una risposta secca e riuscire comunque spiegare bene bene abbiamo pensato appunto fare un piccolo video tutorial in cui metteremo in paragone la elaborazione ai feri a doppia punta con la elaborazione ai feri circolari così riuscirete a vedere la differenza nella lavorazione ma comunque vedrete che il risultato è sempre uguale perciò se vi interessa seguitici iniziamo quindi partiamo subito con un piccolo ripasso per vedere come si faceva con i punti a quei feri a doppia punta ecco qui abbiamo lavorato il primo ferro poi cosa facevamo spostavamo facendo scivolare tutte le mali all'inizio del ferro e facevamo di nuovo la stessa elaborazione senza girare i feri riprendevamo dall'inizio normalmente grazie a questo movimento e a questa tecnica realizzavamo questo bellissimo cordino ecco vedete come si presenta da entrambi i lati nello stesso modo e ci da questo bel cordino ora invece vediamo come con i feri circolari realizzare lo stesso cordino qui abbiamo già preparato quindi riprendiamo e vediamo insieme guardate se non avete i feri a doppia punta non dovete farlo altro che una volta che avete finito vedete sul ferro di destra abbiamo le nostre sei mali che abbiamo appena elaborato dobbiamo fare questo piccolo passaggio andare spostare senza fare nessuna elaborazione le mali sul ferro di sinistra ed ecco qui come se fossero stati spostati all'inizio del ferro ora con il ferro di destra che ora si è liberato andiamo a fare la lavorazione normalissima per il diritto di tutte le sei maglie ecco vedete abbiamo fatto le nostre sei male ora dobbiamo tornare a spostare sul ferro di sinistra ecco di nuovo il ferro di destra di nuovo libero e noi cosa facciamo riprendiamo di nuovo le nostre sei male e li facciamo con una lavorazione normale per il diritto semplicissimo si fa la stessa cosa unica cosa che una volta che abbiamo elaborato le nostre sei male quindi il nostro ferro di destra e occupato noi dobbiamo spostarli sul ferro di sinistra con questo semplice passaggio guardate ed eccoci siamo di nuovo pronti per fare un altro ferro e così si procede per tutta la lunghezza di cordino di cui avete bisogno mantenendo ovviamente e le vostre misure i centimetri di cui avete bisogno vedete utilizzando due ferri differenti il risultato sempre lo stesso ecco speriamo che siamo riusciti a rispondere alla domanda grazie che avete seguito questo video e ci vediamo con un nuovo tutorial